E' domenica 13 ottobre, il pomeriggio di Radio 3 si apre dalla sede Rai di Napoli con Zazza, con i saluti di Piero Sorrentino in studio, che vanno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Vi parleremo di una pagina di storia meridionale molto trascurata, quasi sconosciuta, quella del Cidio nazista del 43 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, con Giovanni Borrelli e con Pietro Valle. Questo spazio che stiamo per aprire sempre a Caserta, sempre in terra di lavoro, restiamo. Qualche settimana fa abbiamo ospitato Enzo Moscato, che ci ha raccontato il suo spettacolo sulle quattro giornate di Napoli e anche a partire da quel filo della memoria, da quel filo della storia, che ora parliamo di altre due date, 12 e 14 ottobre 1943, quando a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, rimasero uccise 25 persone per mano dei rastrellamenti delle truppe naziste, truppe tedesche stanziate sul territorio, a quasi 70 anni di distanza. Da quegli omicidi si impegna a commemorare l'anniversario di quelle stragi un libro, si chiama Eccidi nazisti, Pignataro Maggiore, ottobre 1943. L'ho scritto Giovanni Borrelli, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio. E con lui anche un'associazione che si chiama La Città del Sole, noi ospitiamo il suo presidente Pietro Valle. Buon pomeriggio anche a lui. Buon pomeriggio. Senta Giovanni Borrelli, stiamo parlando di un fatto che è pressoché sconosciuto, credo, alla maggior parte di quelli che ci stanno ascoltando. Le chiederei intanto una contestualizzazione storica di quei fatti di Pignataro. Sì, cioè in effetti questa è una ricerca che si basa sulle testimonianze orali, sulle testimonianze dei parenti, delle vittime. Quindi abbiamo cercato di ricostruire due stragi sconosciute appunto, in cui vengono coinvolte circa 25 persone il 12 e il 14 ottobre del 43. e Pignataro Maggiore in due località, ma precisamente in alcune abitazioni rurali del Contrade, Taverna e Arianova di Pignataro Maggiore appunto in provincia di Caserta. Avvenute queste due stragi, eseguite appunto con disumana efferatezza. E dicevo hanno coinvolto 20 civili tra uomini, donne, ragazzi e un bambino di pochi mesi e in più queste due stragi poi sono state accompagnate da altri cinque delitti isolati perpetrati proprio nel centro abitato con fredda determinazione dalla Hermann Goering. Senta Borrelli, stragi dovute a che cosa? Quali furono le cause scatenanti? Qui andiamo diciamo nello specifico, quella del 12 sicuramente viene ascritta ad un atto di sabotaggio, un atto di sabotaggio che alcuni uomini di Pignataro e un giovane diciamo di un paese limitrofo vicino Pignataro, sempre in provincia di Caserta, compiano ai danni di un portaordini tedeschi che transitava sulla casirina. Cioè in effetti la località taverna è proprio posizionata diciamo a ridosso della casirina. Da qui incominciano tutta una serie di rastrellamenti e l'ordine un tedesco, 10 italiani. E i primi ad essere trucidati furono quattro contadini e la strage non avvenne contemporaneamente ma a distanza di qualche ora. In effetti queste stragi sono state così efferate, così diciamo si sono avute con una violenza forte che è emblematico nel caso di uno stalliere che abitava proprio lì vicino quando sono accaduti questi episodi diciamo del sabotaggio del portaordini tedesco. Viene prelevato alla sua abitazione, fu portato fuori quasi seminudo, gli fu fatto scavare una fossa e lì fu sparato e lasciato per ore e per giorni diciamo in quella situazione. Senta Pietro Valle, è abbastanza incredibile che un fatto così rilevante come appunto il massacro di 25 persone in pochi giorni in una piccola città di provincia del sud non abbia praticamente per 70 anni avuto nessuna ricaduta storiografica, non ci siano stati studi più o meno seri e pare che se ne sia dovuto occupare appunto un'associazione culturale come la città del sole, è un'operazione assolutamente meritoria ma abbastanza stupefacente. Come si spiega lei insomma questa disattenzione quantomeno degli storici? Sì, siamo in tempi di guerra quindi è un periodo in cui queste stragi si fanno su tutto il territorio. Pinnadaro non ha avuto mai un'attenzione a questo, non ha mai voluto riportare a gala, non ci sono mai state persone che hanno avuto l'intenzione, anche politica, di portare alla luce questi fatti. Ricordiamoci che gran parte di questi fatti poi erano comunque tenuti sotto tono nel senso che non si voleva tirarli fuori. È vero che i tedeschi avevano fatto stragi ma era anche vero quello che avevano fatto gli americani, quindi in cambio io non parlo delle tue tu non parli delle mie e quindi questo è durato per tanto tempo. Questo lasso di tempo, quindi questi 70 anni, è stato il tempo giusto per riuscire a parlarne diversamente, per riuscire a denunciare, per riuscire a portare alla luce, a ricostruire proprio storicamente i fatti. Cioè quasi direi con le ore, a tale ora è successo questo, a tale ora è successo questo. Questo grazie alla testimonianza proprio orale dei figli degli assassinati che ti raccontano proprio come è avvenuta l'uccisione del padre. Il figlio vede morire il padre perché è stato fucilato, è stato colpito alle tempi, gli cade davanti. La bambina vede, la mamma la alza per fargli vedere cosa sta succedendo al padre. Lo stanno ammazzando a pochi metri da lei e poi verrà buttato in una fossa. Diciamo che si è voluta la volontà di privati, privati cittadini, attenti, sensibili a queste tematiche affinché si potessero raccontare. Senta Giovanni Borrelli, questo è Cidi di nazisti, Pignatero Maggiore, ottobre 1943 è appunto anche un libro di storia, ma è un libro di storie. Prima di entrare qui in studio lei ci diceva che c'erano alcune testimonianze che le premia particolarmente raccontare. Sì, sono testimonianze diciamo veramente pregnanti perché quando abbiamo fatto questo lavoro di ricerca che è stato fatto poi a più mani coinvolgendo molti dell'associazione culturali sono testimonianze che veramente hanno qualcosa di particolarmente pregnante e la testimonianza diciamo di un dirotto di Antonio che allora aveva sei anni quando suo padre è stato ucciso e quindi lui ricorda molto nitidamente questa storia quando i corpi vennero diciamo disotterrati e lui con le lacrime agli occhi a raccontarci l'episodio quando appunto hanno trovato i corpi e lui dice mia madre portò la bara allora non c'era niente schiodò le tavole da sotto il letto tolse le tavole e gli fece fare la bara alla medio andarono con il carrozzino e furono presi questi due corpi la buonanime di più padre quando fu sollevato gli cadde una spalla era andato già in decomposizione mi ricordo bene perché c'ero pure io quando li hanno presi gli fu sfilata la giacca c'erano dei soldi bagnati e lacerati li misero ad osciugare su una pietra non aveva le scarpe pure le scarpe gli avevano rubate vicino questo cistigliuccio un'immagine che non dimenticarò mai mio padre colpito alla fronte riverso così proprio un'esecuzione pagine assolutamente terribili a proposito di memoria e a proposito di testimonianza siamo a pochi giorni dalla data del 16 ottobre 1943 appunto la data che segnò la retata nazista nel ghetto di Roma che si concluse con la deportazione di oltre mille ebrei tra l'altro un 16 ottobre 43 raccontato in pagine veramente brucianti da Giacomo De Benedetti a questo proposito Radio 3 seguirà naturalmente con una giornata ricca di interventi storici ma soprattutto con uno sguardo appunto molto approfondito noi lo facciamo proviamo a lanciare questa giornata lanciando il prossimo ciclo che comincia domani di ad alta voce vi facciamo sentire l'incipit di 16 ottobre 1943 nelle parole, nella voce di Monio Madia una strana figura sulla quale si vorrebbero avere i più ampi raguagli appare l'11 ottobre nei locali della comunità accompagnato anche lui da una scorta di SS al vederlo si direbbe un ufficiale tedesco come tutti gli altri con quel più di arroganza che gli dà l'appartenere a una specialità privilegiata e tristemente famosa tutto divisa anche lui dalla testa ai piedi quella divisa attillata di un'eleganza schizzinosa astratta e implacabile che inguaina la persona il fisico ma anche e soprattutto il morale con un ermetismo da chiusura lampo è la parola a Fia Boten tradotta in uniforme proibito l'accesso all'uomo e all'individuale passato che vive in lui che è la sua storia e la sua più vera specialità di creatura di questo mondo proibito vedere altro che questo suo presente rigoroso automatico intransigentemente reciso e questa era la voce di Moni Ovadia che leggeva da 16 ottobre 1943 di Giacomo De Beetti il nuovo ciclo di Ad Alta Voce che comincia qui su Radio 3 domani i eccidi nazisti di Pignataro Maggiore sono raccontati nel libro di Giovanni Borrelli lo ha sostenuto l'associazione La Città del Sole presieduta da Pietro Valle io ringrazio davvero molto tutti e due per questa testimonianza grazie grazie a tutti 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 e a proposito di memoria e di tradizione di Pignataro Maggiore questo che avete ascoltato era un canto popolare della tradizione contadina dal titolo Nenna Ne eseguito dal collettivo TG in una registrazione originale del 1976 contenuta nel disco Cala Cala Sole è un'altra un'estra blaggia答 MożA che professione Dottor kommtor Payer sopra la comunità di PorgS